Come ti chiami? Arugge. Arugge, che cosa ti aspetti da questa esperienza? Che sia favolosa. Mi sembra un buon proposito, favolosa in che senso? In senso positivo, che sia piena di entusiasmo, che si imparino nuove cose. So che molti gruppi universitari presentano progetti, cose molto interessanti. Mi aspetto di uscire da qui e aprire gli occhi in questo senso. Quali sono le tue passioni, i tuoi interessi? Io studio economia, quindi direi quello. La matematica, economia, i business, quelle cose lì. Vorresti fare qualcosa che va in direzione del tuo lavoro? Sì, io vorrei, essendo originaria del Pakistan, amplificare l'import-export tra il Pakistan e l'Italia. Aumentare questo, togliere queste barriere rispetto all'Asia che l'Europa ha. Ultimissima curiosità, quanti anni hai? 22. 22 e fare qualcosa che riduca le barriere di export, import-export, mi sembra un buon proposito qui all'inizio di Campus Part Italia. Grazie a tutti. Continuiamo con il nostro tour di interviste. Grazie a tutti.